Le prestazioni del prodotto sono strettamente correlate alle caratteristiche tecniche dell'antena in condizioni ideali di montaggio e utilizzo, la SWR-D1.2x1, potenza massima applicata di 200 Watt e l'impedenza di 50 Ohm. La P&E S60 può essere inclinata con la vite a farfalla di cui è fornita per entrare in passaggi, garage o parcheggi con altezza ridotta. A parte queste situazioni, un'inclinazione superiore a 30 gradi è sconsigliata perché può influire sulle prestazioni dell'antenna. L'antenna può essere altrettanto montata su una base magnetica o su un supporto fisso. La P&E S60